sia per la vostra collezione che per i vostri investimenti in arte. Buona visione! Grazie a tutti! Amici carissimi, buona giornata, buona giornata o una giornata di quelle che si ricordano perché i contenuti della trasmissione di oggi sono letteralmente particolari. Mi viene veramente istintivamente un altro aggettivo, sono veramente straordinari, letteralmente straordinari. Su quest'opera di Tano stiamo facendo una ricerca approfondita perché è addirittura una delle opere che vengono dalla prima mostra di Tano Festa nel 1963 nella mitica galleria di Plinio De Martis. Quindi sapete le opere storiche, le opere sulle quali c'è una documentazione ferrea, le opere che hanno fatto sì che un artista decollasse a livello internazionale. Quindi quando ti trovi di fronte a quelle opere, collezione personale di Plinio De Martis, dedica a Plinio De Martis, opera del 63, prima mostra di Tano, è la prima personale di Tano perché prima aveva fatto tutta una serie di mostri collettive con Uncini, con il fratello, con Schifano, con Mambo, eccetera. Quindi la mostra di Plinio De Martis è proprio la mostra chiave, è quella più documentata, è quella mitica, è quella nei quali vediamo a parire i primi legni. Tano abbandona le ricerche primarie con le carte veline sulle tele monocromate e comincia ad usare il legno, appaiono i primi specchi, appaiono i primi obelischi, appaiono le prime finestre. Quindi quelle opere che poi sono rimaste quelle chiave per Tano, perché in pratica chiunque ama Tano, chiunque l'ha conosciuto, chiunque abbia avuto un rapporto con lui, sa che esistono due pittori, sono due Tano Festa. Tano Festa non è un artista unico che segue una sua logica. Esiste il Tano degli anni 60 che è legatissimo alle ricerche del fratello Lo Savio, legatissimo sentimentalmente proprio al fratello. Un Tano legato alla cultura del gruppo dei Romani, c'era Angeli Festa, Tano era il più colto, Angeli Festa, Schifano eccetera. Il più colto era lui, l'uomo che aveva studiato, l'uomo che aveva una cultura non solamente legata alla pittura, ma alla fotografia, alle luci, alla cinematografia in senso stritto era proprio Tano. Non dimentichiamo che Schifano quando frequentava la seconda media ha abbandonato la scuola. Quindi sono segnali che poi dopo si sia formato una cultura sua straordinaria in maniera autonoma, è un altro discorso. Ma per quello che riguarda proprio la base culturale, il più preparato era Tano, Cunellis veniva dalla Grecia, i più preparati erano Tano e Pascali, erano i più pronti dal punto di vista proprio della conoscenza. E queste ricerche sono fondamentali per la pittura internazionale, non sono di derivazione americana, sono creazioni autonome proprio della cultura italiana e quando vedi queste cose non sono pop, tutt'altro. Era molto più pop Schifano con il monocromo? No, ma quando nel monocromo inserisce la Coca-Cola, quando nel monocromo inserisce l'Issu, ecco che sposa la concettualità popular. In Tano no, è molto più legato ai prodromi di quella che diventerà poi l'arte povera. È molto più legato a quello... Vedete, noi facciamo delle classificazioni approssimative a cui i giovani, soprattutto i critici giovani, aderiscono immediatamente. Perché? Perché non hanno conosciuto gli artisti, perché non hanno parlato con loro. Il Tano di quel periodo non è ancora il Tano citazionista della Cappella Sistina, che però interpreta il popular in una chiave culturale prettamente europea, prettamente italiana. Non è il popular americano della diffusione dell'immagine, della diffusione della speculazione economica. No, è il popular che si richiama alla necessità di rendere popolari i canoni della cultura storica occidentale, prettamente italiana, prettamente europea. Ed ecco le citazioni dei coniugi Arnolfini, ed ecco le citazioni di Van Eyck, ed ecco le citazioni di Enger, ed ecco le citazioni della Cappella Sistina, ma quelle di Velázquez anche. Quindi capite bene che c'è un rapporto con il popular internazionale, è completamente diverso, completamente autonomo, ed è derivato dalle ricerche concettuali dell'inizio degli anni Sessanta. Anche il Tano informale del 58-59 non era quello americano, non era alla Pollock, era monocromatico, era denso di materia, era più legato alle esperienze nord-europee che non alle esperienze americane, che non alle esperienze dell'espressionismo americano. Ma questo è fondamentale. E io ce l'ho, ce l'ho per modo di dire. Discuto con i critici d'arte che vogliono fare ad ogni erba un fascio, perché non hanno conosciuto personalmente questi artisti. Quindi dispuggono quelli che sono i temi delle ricerche iniziali. Poi c'è il Tano, dopo la scomparsa del fratello Losavio, poi c'è il Tano della decadenza corporale, che è quello degli anni Ottanta, che è quello che nella parte migliore, lasciamo perdere tutti i quadri che io, io di Tano Festa fanno un catalogo generale di 5.000, 6.000, 7.000 quadri. Io a mille chiuderei, perché quelli dipinti da lui sono niente rispetto a quelli che vedo in circolazione. Poi ne vedo in circolazione certi che proprio, lasciamo perdere i documenti, le autentiche, le cose, ne vedo in circolazione certi che proprio di Tano Festa non hanno nemmeno il pensiero, proprio niente, l'imitazione più totale. Ma a prescindere da questo, quando io parlo di calligrafia, quando parlo di individuazione del tratto pittorico, parlo di un qualcosa di scientifico che si archivi spesso e volentieri improvvisati, non sanno nemmeno di che cosa si parla quando si parla di riconoscimento calligrafico del tratto pittorico dell'artista. Esattamente lo stesso studio che viene fatto per il riconoscimento della vostra firma, della vostra calligrafia, solo che hai mille elementi in più. Perché un conto è esaminare una firma, un conto è esaminare il tratto su un quadro che hai mille elementi in più di una firma. E non capiscono che la base, questo è lo studio che si fa sui pittori antichi, no? Come fai a riconoscere il guercino vero pensato e dipinto da lui dai quadri usciti dalla bottega del guercino. Riconoscere la calligrafia del guercino che è diversa dalla calligrafia di tanti ottimi pittori che hanno lavorato nello stile del guercino nella bottega del guercino. I materiali sono quelli perché a me mi fanno ridere quando fanno l'analisi chimica. Nella bottega il colore veniva costruito nella bottega stessa e lo usavano tutti, non è che lo usava solamente lui. Quindi delle volte in questo senso, questo è un altro capitolo, è il capitolo della pittura antica, di cui ah stai ho fatto l'analisi chimica del colore ed è quello della bottega del guercino. Ebbè è buono, la usavano tutti, mica lo usava solo lui. Comunque lasciamo perdere. Ma questo per dirvi che chi studia l'80% degli archivi questo discorso non sanno nemmeno che esiste, non sanno nemmeno che c'è, è una cosa reale, è una cosa scientifica. Il quadro antico si studia così, non ho capito perché il quadro moderno no. Perché? Perché ci sarebbe molto da dire in questo senso. E io cerco i quadri dove calligraficamente, ma qui lo vedi, questa è un'opera da brivido, questa è un'opera da pelle d'oca, questa è un'opera che impazzisci nel momento in cui lo vedi alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, nel momento in cui lo vedi nei grandi musei internazionali. Ma questo lo capisce anche un bambino che tra un'opera del genere di Tano e quelle che vediamo in giro c'è una differenza abissale. Come quando vai a vedere di Tano della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, ma dici ma che cavolo dite? Ma che è lo stesso pittore che vedo in giro? Ma dai! Se ne accorge anche un bambino appassionato di pittura. Quando vai a vedere i quadri di Tano della collezione Tornabuoni, quelli sono quelli veri, quelli sono quelli pensati e fatti da lui. Poi su Tano hanno mangiato generazioni di imitatori. E quando parlo del Tano di questo periodo, giustamente Gabriele gli ha messo accanto una spettacolare opera di Dadamaino. Una spettacolare opera di Dadamaino. Perché? Perché il periodo culturale è quello. Perché è chiaro che ci sono delle differenziazioni. È chiaro che nel gruppo milanese c'è una ricerca spazialista legata a Dova, Crippa, Fontana e noi ce lo dimentichiamo perché parliamo di Fontana e poi Dova e Crippa sono... ma quando mai? Dal punto di vista della ricerca sono stati fondamentali e che poi derivano da Bruno Munaghi, da tutto il gruppo culturale di Atanasio Soldati. Quindi derivano da tutto il gruppo culturale che ha frequentato la Milano della prima metà del XX secolo che dal punto di vista culturale è stato rivoluzionario. Quindi c'è una differenza fondamentale. Però vedete che si legano dal punto di vista della ricerca. Qualcuno mi dirà che in Dadamaino c'è una chiave spazialista mentre invece c'è una chiave realista animistica in Tano Festa. Vero? Sono due sensibilità completamente diverse però esprimono le necessità di racconto di quegli anni. Questa è la cosa fondamentale. Poi c'è il Tano e questo lo adoro, lo amo da impazzire perché è unico al mondo, perché è unico al mondo. Guarda il Tano degli anni anni 70. Guarda il Tano quello vero, quello storico, quello affascinante del 1974. Guarda il Tano pubblicato da Achille Bonito Oliva in occasione di una delle mostre fondamentali legate all'opera di Tano. Questa sì. Vedi che c'è un'attinenza, vedi che è conseguenziale. Vedi che la ricerca degli anni 60 sul piano concettuale la ritrovi nelle stesure di fondo nelle opere del decennio successivo del 73-74. Lo vedi la citazione del paradiso terrestre ma non in chiave post-michelangelisca. Oddio, quell'albero deriva dalla intuizione michelangelisca. Però il racconto non è solamente legato alla popolarizzazione del capolavoro michelangelisco. Il racconto è legato alla coscienza del peccato originale, alla coscienza dell'abbandono di uno stato divino legato alla creazione e all'umanizzazione dell'individuo. Quindi è un racconto che ancora, sì, è già in chiave popolar, ma è una chiave popolar estremamente colta nel racconto, estremamente raffinata nel racconto. E quando vi dico che Tano è un punto di riferimento straordinario non solo per il popolar, ma anche per le ricerche antecedenti a quello che diventerà l'arte povera, non dimenticate che in tutti questi artisti, Festa, Schifano, lo stesso Angeli, Cunellis, Lombardo, Tacchi, tutti gli artisti del gruppo romano, come riferimento culturale di ricerca avevano Mambor. Schifano ha avuto studio con Mambor, che poi litigasse sul piano intellettuale. È tutto un altro discorso. Però i discorsi di Mambor attecchivano, lasciavano un segno nell'opera di tutti gli artisti a Roma di quel momento di rinnovamento culturale, di invenzione culturale. Quindi quando si fa un'analisi critica di quel momento storico, queste sono tutte realtà che vengono fuori in maniera eclatante. Quando dico che Mambor è fondamentale, esattamente non è da meno di Fontana, dico una cosa vera, storica, verificabile storicamente, criticamente. Guarda quell'opera legata alla mitica mostra di Mambor al Museo degli strumenti musicali. Capisci? C'è una ricerca che va ben oltre la figurazione. C'è una ricerca che anticipa tutti i temi che verranno trattati. Poi Mambor è l'unico pittore di quella generazione il cui pensiero sia oggi fondamentale. Mambor parlava già delle crisi sociologiche e politiche che stiamo vivendo oggi. Nelle opere di Mambor, nel recupero dell'individuo, c'è il recupero del diritto all'esistenza dell'individuo. Ma vi rendete conto dell'importanza storica di quest'artista oppure continuate a cianciare sulle speculazioni commerciali del momento? Poi, quando partirà l'operazione economica su Mambor e Mambor ve lo faranno pagare non centinaia di migliaia di euro, ma cifre da paura, allora vi ricorderete quello che vi ha detto quel fesso di Boni. Allora vi ricorderete che quel fesso di Boni vi diceva, 40 anni fa, che era più intelligente investire il vostro denaro su Burri, Manzoni, Fontana, piuttosto che su Campigli, piuttosto che su Rosai. E allora era come bestemmiare, ve lo giuro, quando dicevo queste cose in televisione arrivavano delle telefonate per cui io ero un bestemmiatore, era un demonio. Poi figuratevi quando ho cominciato a presentare Schifano, Boetti, allora proprio altro che demonio. Questo non ve lo mettete nella testa ed è fondamentale. Oggi chi non compra Mambor ci resta nella storia dei prossimi dieci anni, nella storia di mercato dei prossimi dieci anni, resta stupito, estragnato, dice ma come? Ma come mai? Ma perché? Ma te lo dico, te lo dico, te lo ripeto. Le situazioni intellettuali determinanti, quando poi vengono sostenute dal capitale economico importante e diventano, e c'è un investimento di denaro importante per rendere visibile l'artista in tutto il mondo, diventano speculazioni commerciali da paura. E volete che vi faccio l'elenco degli artisti sui quali sono in corso oggi queste speculazioni commerciali? Ce n'è? Guarda i record price del momento su tanti artisti italiani e stranieri, perché il sistema è universale ed è dominato non dal capitale italiano, ed è dominato dai poteri finanziari internazionali che sono molto più determinanti di quelli solamente italiani. Quando parlate di investimento e seguite le… certo, comprare il De Chirico a 3 milioni, a 2 milioni, quello storico, è tesaurizzazione, non è investimento. Perché De Chirico, voi lo sapete, è una delle mie fissazioni, è uno degli artisti che amo di più. Però non credere di guadagnare tanti soldi comprando la piazza d'Italia rifatta a 800 mila, a 900 mila, a 600 mila. Puoi tesaurizzare quando mi compri il De Chirico storico. Allora, anche se lo paghi una cifra completamente diversa. Ma questa è logica, è logica. Poi lascia perdere la pubblicizzazione commerciale che è rivolta a far guadagnare gli operatori commerciali, è ovvio, no? Chi deve guadagnare? Voi siete l'ultima preoccupazione dell'operatore commerciale, purtroppo, purtroppo. Quindi, ritornando a questo discorso, quando ti faccio vedere un Festa del genere? Questi sono quelli che poi vedi da Sotheby's a Londra, a New York, quanto viene fuori? Ah, ha fatto 800 mila, ma Festa non aveva mai fatto 800 mila. Certo, più i diritti, più i diritti, ma tutto quello che ti paghi. Quando ho visto, ma già sono passati dieci anni, proprio in una mostra qui a Milano, se non sono dieci saranno otto, ho visto un Festa di due metri e mezzo per un metro e settanta, ottanta, uno specchio del 63 birro. Volevano un milione all'ora. L'hanno venduto, l'avranno venduto a 7, 800 mila, 6 e 5, non lo so a quanto l'hanno venduto. Però in mostra chiedevano un milione all'ora. Ma quelle sono le opere immortali di un genio? Com'è immortale quest'opera di uno degli artisti fondamentali della cultura degli anni Sessanta. Poi lasciate perdere quello che è successo negli anni Ottanta. Io ve lo dico pubblicamente. I quadri degli anni Ottanta, al 97%, 97% sono d'atelier. Tano non aveva una dimora fissa, non aveva un letto pisso dove dormire. Quindi come avrebbe fatto in quegli anni a dipingere 3.000, 4.000 opere è che non aveva i soldi per comprare un telaio, una tela. Che se non gli compravi le tele e i colori e non gli davi un luogo dove dipingere. Infatti molti filmati degli anni Ottanta, poetici, meravigliosi, perché poi il festa degli anni Ottanta è una poesia straordinaria, viene fuori il poeta che lui voleva essere da sempre. Studiate la storia di un artista. Lui non voleva essere solamente un pittore, ma lui voleva essere un poeta. Come il suo mito, i suoi miti erano Sandro Penna e Pasolini. Capite? Per capire la personalità di Tano, che poi è l'unico artista al mondo che io ho conosciuto, che è morto di stenti, povero. Quando anche un artista mediocre oggi vive una vita dignitosa, non voglio dire che… però anche un artista medio, mediocre vive una vita dignitosa dal punto di vista economico. Tano, per andare a sperimentare su se stesso, cosa significa far parte degli invisibili nella società contemporanea, ha distrutto il suo corpo anche dal punto di vista materiale, anche dal punto di vista salutistico. Non dimenticate che Tano muore a 50 anni, non è… e gli ultimi dieci anni li ha vissuti da invisibile, volutamente, andando a sperimentare il carcere, ma non il carcere elitario, quello del lucciardone. Capito? da ignoto, perché non sapeva nemmeno Garatano. L'ha tirato fuori Renato Guttuso, perché Renato era uno dei pochi artisti storici che si era legato a quella generazione, tanto è vero che li aiutava economicamente, li aiutava da tutti i punti di vista, pur avendo delle visioni concettuali completamente diverse. Però capiva che c'era un rinnovamento intellettuale e un fermento intellettuale paragonabile a quello che aveva vissuto lui negli anni 30. Quindi capiva perfettamente quello che erano le tematiche dei giovani, delle nuove generazioni e sosteneva i più capaci. Ma questa è la verità. Poi vado a leggere le storie sul pop italiano e mi viene da ridere perché sono una massa di balle scritte magari in maniera roboante, ma una massa di balle da far paura. Questa è la verità. Questo Tano, questo è del 74, è l'evoluzione del Tano concettuale dei primi anni 60. Poi negli anni 80 c'è un ciclo che a me fa, a parte il fatto che negli anni 80 devi partire dall'identificazione calligrafica del dipinto. Vi puoi portare i documenti dell'archivio A, i documenti dell'archivio B, i documenti dell'archivio C, li puoi mettere insieme tutti e tre, tutti e quattro, tutti e otto, tutti e dodici, ma non me ne frega niente. Se non c'è il tratto pittorico, l'identificazione della calligrafia di Tano, ci possono essere 174 documenti, ma cade tutto, cade tutto scientificamente, non cade tutto, capito così, giuridicamente, ma cade tutto storicamente. E il Tano negli anni 80, proprio per questa sua riflessione sulla letteratura, sulla poesia, diventa poetico. Da scientifico concettuale che era stato negli anni 60, negli anni 70, diventa l'esaltazione della poesia. E nascono delle cose fantastiche, nascono i mitici coriandoli, nasce il ciclo del Don Quixote in cui Tano racconta se stesso le sue problematiche. Questo è lui allo specchio, è lui allo specchio della memoria. È lui che racconta l'identificazione e l'esplicazione di se stesso, dei suoi passaggi culturali, del suo sentirsi un Don Quixote degli anni 80. Perché Don Quixote degli anni 80? Perché lotta idealmente contro i mulini al vento. E i mulini al vento non sono i mulini fisici, è tutto il sistema culturale che si è venuto a creare dal punto di vista storico, commerciale, negli anni 80, che relegavano all'oscurità, tutto ciò che non veniva assimilato alla moda. Ed è il Tano più poetico, ed è il Tano più affascinante, ed è il Tano più identificabile, il sogno, i mulini a vento, lo specchiarsi nella memoria. Poi l'identificazione di se stesso, nelle due personalità. Lui non è solamente Don Quixote, lui è anche Sancio Panza. Lui, capito, sono le due personalità che si identificano in un'immagine solamente. Ma è di una poesia, è di un fascino, è di una bellezza. È uno di quegli artisti per i quali tu dici chapeau. L'altro giorno, pochi giorni fa, mi sono entusiasmato perché sono andato a vedere una mostra di Goya. E mi è ritornato, mostra tra l'altro bellissima al Palazzo Reale di Milano. Se siete a Milano andatela a vedere. di Goya, scusatemi, che dico, di El Greco. Goya ci sarà, di El Greco. E vi dicevo, mi è ritornato alla mente mio padre, quando io ero bambino. Mio padre era un innamorato dell'opera di Domenico Teodocopoulos, il mitico El Greco. E cercava di farmi capire quanto quell'artista fosse innovativo rispetto alla cultura di Tiziano, di Tintoretto, di Giorgione, di Jacopo da Ponte. Come quell'artista fosse diverso da tutti i grandi artisti che lui aveva frequentato e conosciuto rinascimentali. Come fosse già un preromantico, come intravedesse quello che poi sarebbe diventata la grande pittura dell'Ottocento, eccetera. Bene, io allora non lo capivo. Vi giuro, ero bambino, ero ragazzo. Allora non lo capivo. Poi, quando ho cominciato a fare i confronti, quando ho cominciato a capire che anche le Demoiselles d'Avignon di Picasso derivavano dalla spiritualizzazione dell'essere di El Greco. Allora ho capito la grandezza di questo artista. Poi, adesso da vecchio sono andato a rivederlo e mi sono emozionato nel ricordo di quello che mi diceva mio padre e nel fatto che allora non capivo e oggi, grazie a Dio, riesco ad apprezzare quell'artista. Festa è uguale. Mambor è a quel livello. Solo che, soprattutto per Festa, Mambor no perché ha dipinto pochissimo, si è dedicato al teatro, ha fatto altre cose nella vita, oltre alla pittura. E quindi non è mai diventato un fenomeno commerciale. Festa è diventato un fenomeno commerciale da subito, come Schifano. Perché quando io ero bambino, tutto il mondo del mercato romano viveva su tre pitturi. Poi c'era l'élite, eccetera. Ma tutto il mondo dei piccoli mercanti, del petit marché, della sopravvivenza quotidiana, che poi è il mercato più numeroso, viveva comprando e vendendo le opere di Schifano, angeli e festa. Ecco perché i falsari, le botteghe, si sono sviluppate su questi tre pittori. Poi Tano, negli anni Ottanta, non controllava più nemmeno se stesso. Quindi figuratevi se controllava i suoi imitatori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi era completamente indifeso. Schifano era preda della legge, della banda della Magliana, della droga. Doveva, per sopravvivere, gli servivano una montagna di soldi. E ti vendeva, ma io me lo ricordo perché l'ho visto con i miei occhi, adesso non faccio i nomi perché sarebbe antipatico, ma arrivavano i mercanti con il camion per caricare cento quadri per volta, perché a lui servivano tanti denari. E fare cento quadri in una settimana, o te fai aiutà, o non li fai. Puoi essere gestuale quanto vuoi, ma non li fai. Capisci? Soprattutto poi diventano opere seriali. È ovvio. Poi Schifano, oltretutto, voi non lo sapete, ma io che l'ho visto, l'ho conosciuto, lo so, era pigro. Ma più che pigro, perché viveva nella necessità di conoscere il nuovo continuamente. Tant'è vero che si contornava ad immagini televisive, e allora di canali ce ne erano manco venti. Però lui prendeva il satellite, è stato uno dei primissimi a Roma a prendere il satellite per collegarsi con le immagini internazionali. Ma Schifano, io l'ho vissuto, se leggete il mio libro ve lo racconto, quando gli chiedevi, parlo del 71, 72, quando gli chiedevi, ma per favore me la fai una esso, me la fai una Coca-Cola, ti diceva, ma non mi romperei. Sono cose che aveva già fatto, non gliene fregava nulla. Però dato che aveva bisogno di denaro, se tu andavi lì con il denaro, lui diceva al suo assistente del momento, Beppe, guarda lì c'è la mascherina, fammi due Coca e un esso, e te li faceva l'assistente. Ma questo l'ho vissuto di persona, quindi mi possono raccontare la fava e la gava, ma io l'ho vissuto personalmente. Quindi Schifano non amava nemmeno ripetere se stesso. Lui era sempre alla ricerca del nuovo, era sempre alla ricerca della novità. Quindi è chiaro che tutta quell'infinità di quadri seriali, soprattutto degli anni 70, sono di bottega. Per carità. Vedi Andy Warhol, vedi i fenomeni commerciali contemporanei, vedi Bansky, vedi Jeff Koons, quanto c'è per avere un Andy Warhol fatto da Andy Warhol? Oggi ci vogliono 10 milioni di dollari, ma puoi comprare il Andy Warhol a 500 mila, 800 mila, 100 mila, a 1.500 dollari. Dipende da che tipo di Andy Warhol compri. Ma quello è fatto scientificamente, da factory, pubblicamente, fatto bene. Sui nostri invece c'è, manca l'identificazione, culturale, la calligrafia, la calligrafia pittorica fondamentale. Opera strepitosa degli anni 80, opera da museo degli anni 70, opera esaltante del 1963. Questo è il Tano da comprare. Questo è il Tano che resta nella storia dell'arte in secula seculorum. Tutto il resto oggi commercialmente serve, ma verrà cancellato. Mettetevelo in testa. Il Tano del futuro non è il Tano di massa, di bottega, come lo Schifano del futuro, come l'Angeli del futuro, come il Cunellis del futuro, il Dorazio del futuro. Non sono le opere, in rotella non ne parliamo, non sono le opere seriali di botteghe. Sono le opere calligraficamente veri. Questo, se non vi mettete in testa, questo, la vostra collezione sarà sempre approssimativa. Sarà sempre approssimativa. Per cui, quando Gabriele vi chiederà il prezzo di quest'opera e voi direte è caro, dite una sciocchezza. Questo è l'investimento produttivo. Quando Gabriele ti chiederà il prezzo di quest'opera e tu lo paragonerai a quello che al prezzo del quadro più o meno della stessa epoca di bottega che viene venduto poi oggi a 2.000 euro di meno. Perché non è che oggi va di moda il prezzo di carta e quindi quando c'è il prezzo di carta va bene tutto. Quindi magari lo pagate non la metà ma 2.000 euro meno o 1.500 fate un ragionamento di questo tipo dice quanto costa quello? 10. No ma guarda io ne ho trovato uno a 8 che poi è di bottega. E' buttati via a 8. Oggi va bene se lo compri a 8 e lo vendi a 8.5 domani perché oggi il documento impera. domani impererà un altro documento molto più selettivo molto più scientifico e ciao e questo lo sapete perché è già accaduto su tanti artisti lo sapete perché non è una novità dovete comprare le opere giuste i 1.000 euro in più sono zero rispetto all'investimento culturale ed economico proiettato verso il domani sono zero opera strepitosa e quella è una poesia e quella è letteralmente una clamorosa poesia una affascinante straordinaria poesia è un autoritratto dell'anima è letteralmente un autoritratto dell'anima io allo specchio del mio passato ma fare una collezione con le tre opere hai un tanofesta storico degli anni sessanta hai un tanofesta stupendo degli anni settanta e hai una gemma poetica degli anni ottanta ecco quello è un itinerario quello è un itinerario di tre opere letteralmente immortali scusatemi forse Gabri ciao buongiorno fanciullina mia mi sono emozionato forse sono stato troppo aggressivo non lo so dimmi te Gabri perché poi lo sai quando io mi appassiono non mi controllo dico tutto quello che sento quindi non so i nostri amici telespettatori come hanno interpretato questo intervento piuttosto prolisso su queste tre opere raccontami eccoci che dirti festa piace piace soprattutto la numero 11 ma c'è il Don Quixote che costa pochissimo e poi l'opera numero 12 cioè l'Eden ha storia ha qualità perché è un anno veramente importante ma costa poco è un anno fondamentale poi dal punto di vista storico è una delle pochissime opere pubblicate da Gille Bonitoniva quindi dai è una certificazione storica che va bene al di là di quelli che sono i documenti consueti quindi è una certificazione storica di quelle immortali però oggi ci troviamo di fronte ad un set ve lo dicevo in apertura letteralmente straordinario lo vogliamo andare a vedere io vi ho fatto vedere tre opere di Tano da batticuori vi ho fatto vedere proprio introducendo il discorso sul festa del 63 questa splendida opera di Dada Maino e Dada Maino è un altro di quegli artisti quando sei di fronte alle opere vere quando sei di fronte alle opere storiche quando sei di fronte c'è tutta una letteratura sullo spazialismo e c'è tutta una letteratura sul rapporto Dada Maino Fontana addirittura Dada Maino si innamorò dello spazialismo si innamorò di Fontana vedendo un quadro di Fontana mentre passava con un tram in una vetrina non mi ricordo che cos'era era una vetrina di una non c'entrava nulla con le opere d'arte perché erano gli scambi che Fontana faceva per mangiare per vestirsi con un'opera eccetera eccetera e da lì nacque questo interesse di Dada Maino per questo tipo di avventura spazialista alla ricerca di una dimensione storica che poi si lega alle ricerche sulla luce di Losavio si lega alle ricerche di Munari a tutta una generazione culturale che lo accompagna l'opera è tra le più documentate tra le più affascinanti quelle museali di Dada Maino poi Dada Maino passerà a quella pittura incredibile legata proprio al ritmo gestuale al segno che io trovo tra le cose più belle della storia dell'arte della cultura lombarda della cultura milanese di quegli anni opera fondamentale di Dada Maino ma andiamo su quello che accade oggi sul piano intellettuale e sul piano speculativo cosa accade oggi quali sono gli artisti che oggi il mondo del mercato fa diventare i protagonisti dei prossimi vent'anni di mercato ce ne sono alcuni strepitosi ce ne sono alcuni straordinari io ho avuto la gioia la fortuna di farvi comprare delle opere storiche delle opere sublimi delle opere strepitose di Jerry Zenyuk quest'artista incredibile quest'artista straordinario di origine dell'est europeo che poi per condizioni storiche giovanissimo arriva negli Stati Uniti vive tutta l'esperienza americana di quella che è stata la storia della pittura americana quella di Eleana Sonnabend quella di Leo Castelli quella della identificazione in New York nella Parigi degli anni venti negli anni 50-60 proprio per merito di questi personaggi Eleana Sonnabend in primis Leo Castelli New York ha sostituito la Parigi degli anni venti degli anni trenta la Parigi degli anni venti degli anni trenta nell'immediato dopoguerra e negli anni sessanta diventa New York e lui vive quel momento in gioventù poi sente la necessità di ritornare al suo germe alla sua matrice culturale quindi ritorna in Europa in Germania ma oggi se andate nelle grandi mostre internazionali comprare le opere di Jerry Zenio che significa comprare la realtà culturale emozionale della contemporaneità oggi se mi dite come posso investire il mio denaro in maniera produttiva nei confronti di quello che è l'evoluzione del mercato di oggi e di quello che inevitabilmente sarà l'evoluzione del mercato di domani non comprare per macchio per macchietti non comprare gli artisti iper speculati del momento a livello di record price ma compra Jerry Zenio ma compra Jerry Zenio queste apparizioni che sono apparizioni universali emotive legate proprio al rapporto cromatico tra sorgente di colore e sorgente di colore su questo fondo che vuole essere universale che vuole essere neutro ma un neutro che ha condensazioni diverse che vive di emozioni sovrapposte siamo di fronte a una delle opere più affascinanti della contemporaneità e siamo di fronte ad un artista che ormai è una realtà e questo ve lo dovete mettere in testa se un artista non è sostenuto un artista può essere enorme può essere grandissimo oggi ma se non ha dietro di sé un'organizzazione culturale e commerciale capace di investire cifre importanti sulla visualizzazione di quell'artista nei mercati contemporanei più significativi quell'artista ai grandi prezzi non ci arriverà mai e quello che intelligentemente sta facendo Gabriele è proporvi quegli artisti che non solo rappresentano l'elite culturale di oggi ma quindi validi dal punto di vista del pensiero e dal punto di vista della tecnica esecutiva ma sostenuti dal sistema che li rende visibili sul mercato internazionale questi sono i veri investimenti in arte tutto il resto sono chiacchiere tutto il resto sono chiacchiere opera di Jerry Zeniuk da non perdere non è che faccio il profeta non è che ti dico ho la visione del domani che sono un visionario no è la logica del mercato attuale è il sistema del mercato attuale che sostiene e rende visibili gli artisti a livello internazionale trovare oggi vai nelle grandi mostre internazionali vai a Kassel trovi Jerry Zeniuk ma non lo paghi quanto ti chiede Gabriele oggi lo paghi il doppio nelle grandi mostre internazionali eh oggi lo paghi il doppio a Berlino oggi lo paghi il doppio ad Amsterdam oggi lo paghi il doppio a Kassel oggi lo paghi il doppio a New York questa è la verità oh e se tu ad un mercante di New York a un mercante di Londra o a un mercante di Sydney eh dici chiedi eh scusi eh lei eh mi può procurare un'opera di Jerry Zeniuk sa di che cosa parli e sa e sa quanto vale questo è fondamentale questo è fondamentale perché quando un artista eh ha magari un buon mercato ma solamente in un paese o addirittura solamente in una provincia o addirittura solamente in una città eh l'investimento cambia eh in maniera radicale eh lo capite perfettamente io di fenomeni locali di pittori che si vendono solo a Palermo si vendono solo a Roma eh si vendono solo a Bologna eh si vendono solo a Bergamo eh o si vendono solo a Venezia eh te ne posso nominare eh decine e sono pure bravi però gli manca quella visibilità e quel sostegno eh che eh possano renderlo poi una realtà di mercato internazionale e se tu non compri una realtà di mercato internazionale eh non investi eh è inutile che stiamo a a girarci intorno a discernere a chiacchierare e ti compri il quadro che ti piace ma quello è un altro discorso questo poi è un discorso completamente diverso opera fondamentale di Jerry Zenyuk e il discorso che vi ho fatto per Jerry Zenyuk è replicabile anche se parliamo di una anche se parliamo di un mondo completamente diverso di una cultura completamente diverso uno dei più grandi fotografi della contemporaneità uno che ha dato alla fotografia un'identificazione personale eh con la sua presenza eh fisica in ogni opera è Liu Bolin è Liu Bolin che poi intelligentemente che cosa fa eh accosta la sua immagine alle immagini più celebri più importanti della storia dell'arte eh quando Liu Bolin vuole rappresentare se stesso a Roma eccolo lì la scalinata di Trinità dei Monti oppure affronta le problematiche dei migranti eh affronta le problematiche eh contemporanee identificando proprio la sua fisicità eh nell'immagine immortale eh nell'immagine storica lì vedete eh tutta la preparazione eh una fotografia di Liu Bolin non è uno scatto eh è una preparazione che coinvolge eh trenta persone eh perché eh deve eh prima di tutto mimetizzare se stesso nei colori eh nella eh nella eh realtà eh della fotografia che vorrà essere realizzata e poi naturalmente c'è tutta una truppo oh per fare eh ecco che eh questo eh questo è fondamentale questa prima di tutto è enorme eh è 90 120 poi eh sapete quante eh copie esistono di questa foto sei nel mondo sei nel mondo cosa significa sei nel mondo che una sarà a New York una sarà a Londra un'altra sarà a Parigi e una è qui e una è a casa mia e una è a casa di Gabriele e tra l'altro eh specifichiamo perché è importante sei perché voi dovete sapere che Gabriele è ormai milanese non fa specificare no le sei sono sei totali non sei grandi sei medie sei piccole no sono sei immagini sono sei immagini eh quindi eh amici miei questa è 100 120 è straordinaria è 90 120 scusate è 90 120 è pazzesca è pazzesca quando mi compri un liubolin del genere è una realtà mondiale è una realtà mondiale vi ricordate la performance di Valentino ricordate quando è stato a Milano eh con eh al castello eh con eh l'opera più famosa di Michelangelo eh gli uubolin eh sono punti di riferimento storici ho le sue opere dedicate eh le sue opere del ciclo dei migranti eh sono epocali le sue opere legate alla galleria borghese sono epocali questa è un'opera epocale eh questa è un'opera epocale oh eh e comprate un'opera di liubolin di questo genere ancora ad una cifra umana non aspettate che vi chiedano i centocinquantamila perché ci arriva perché ci arriva ma non ci arriva tra cent'anni eh ci arriva subito eh ci arriva a brevissimo tempo eh vedete la grande qualità e l'internazionalità eh di queste opere vedi io adesso non voglio fare nomi ma ci sono nomi importanti eh del novecento italiano che oggi giustamente costano centomila centocinquantamila non voglio fare nomi perché eh instaurerei delle polemiche eh infinite ma che se li porti non ti dico eh a New York ma se li porti a Ginevra eh o a Lugano eh che da Milano dista 40 minuti di macchina eh non li vogliono più cioè non entrano eh nel sistema commerciale internazionale e sono quadri importanti per la storia della pittura italiana che magari paghi centomila centocinquantamila perché li valgono eh però eh il mercato è limitatissimo eh è solo quello italiano quindi è chiaro che non puoi andare oltre quindi è chiaro che già quelli sono prezzi definitivi sì può arrivare il quadro particolare può costare un po' di più è il quadro meno significativo può costare un po' di meno ma siamo lì ma non cambia la vita quando entri eh e cominci una collezione eh di artisti contemporanei proiettati sul mercato internazionale è un'altra pagina di storia ma questo deve essere storicamente già identificabile non devono essere le chiacchiere eh di un presentatore perché con le chiacchiere di un presentatore fai i 25.000 quadri inutili eh della collezione famosa eh di cui si parla in questi giorni eh sui quali Vittorio Sgarbi dice giustamente quanti sono 25.000 forse 7-8 sono degni di eh rappresentazione ma sapete che percentuale è 7-8 su 25.000 eh 0,0 ma è fondamentale ma è fondamentale oggi un collezionista attento eh un'opera del genere che la compra con gioia eh immediatamente eh un'opera di Jerry Zenyuk di questo livello ma dai ma stai scherzando eh eh vai a Castle vai nelle mostre che contano eh e chiedi il prezzo e soprattutto lo trovi e soprattutto se fai il nome al commerciante che ti trovi di fronte eh quello non non ti dice non so chi è eh eh ma magari averlo eh magari averlo è fondamentale e restiamo nell'ambito della cultura orientale ma passiamo eh dalla fotografia alla pittura storica eccola qua Zhang ong io ho cominciato a vendervi le opere di Zhang ong mei vent'anni fa costavano zero costavano zero ma era già un artista eh di livello internazionale qui eh ho recuperato da una collezione eh Gabriele ha recuperato da una collezione italiana una delle opere storiche di Zhang Godmei infatti è un'opera eh di dieci anni fa dodici anni fa eh del 2011 e qual è la caratteristica primaria di Zhang Godmei che non tradisce la tradizione originale resta eh nella tradizione originale ma la proietta e la trasporta nel secolo che stiamo vivendo eh nella realtà culturale contemporanea quindi è la proiezione attuale della cultura d'origine opera preziosa del 2011 eh un metro per cinquanta ha un prezzo a cui compri pernacchio pernacchiotti eh non compri certamente eh le opere storiche di Zhang Godmei non compri certamente delle opere straordinarie di Zhang Godmei abbiamo fatto una puntata straordinaria ma la Bolina e Zenyuk li vogliono tutti eh beh se gli Ubolina e Zenyuk li vogliono tutti eh dovete prenotarli all'istante cosa? sai cosa stiamo facendo con Zenyuk? no non so che cosa state facendo su Zenyuk su Zenyuk è con B che presenterai dopo buono cinquanta no no allora Gabriele vi sta me l'ha comunicato adesso eh non so se l'avete sentito o non l'avete sentito ma proprio mentre sto parlando Gabriele mi ha interrotto e mi ha detto una cosa oggi 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 ma precipitatevi subito subito oggi eh guardate questo eh lo posso dire Gabriele eh questo è un momento di pubblicità questo è pubblicità questo è pubblicità su Zenyuk e poi vi ferò un'altra sorpresa eh su Zenyuk oggi in questo momento io voglio che questo quadro venga prenotato all'istante perché so di affidarvi un pezzo di storia incancellabile eh nella storia della pittura internazionale su quest'opera però dovete intervenire subito eh dovete telefonare subito e dire è mia su quest'opera io vi faccio una condizione straordinaria ma è una provocazione ma è una provocazione chi compra quest'opera oggi al prezzo che non ottenete da nessun mercante al mondo nemmeno se andate nello studio di Jerry Zenyuk riuscite ad ottenere un'opera del genere a questo prezzo eh quindi accettando il prezzo che il centralino vi sta chiedendo avete il 50% in un buono acquisto quindi in pratica eh lo pagate la metà perché il 50% eh ve lo eh regala arte investimenti dandovi un buono acquisto che voi potete spendere eh anche nella trasmissione di oggi o quando volete o quando volete quindi per il 50% avete un buono acquisto di eh arte investimenti questo è il momento di un investimento epocale perché poi se il buono acquisto lo usate per comprare dei quadri che vi consiglio io non solo straguadagnate su Zenyuk ma straguadagnate anche sul buono acquisto o inutile dire un'opera questa opportunità eh su un'opera in questo momento quindi o chiamate subito o adieu o chiamate immediatamente o adieu eh precipitatevi poi c'è l'opera di Lubolin che è un collezionista romano che non compra un'opera di Lubolin di quelli un mercante romano l'ha appena confermata eh lo credo eh dai quella poi è regalata poi è regalata letteralmente regalata un'opera preziosa di Zhang Gondmei quindi entriamo nell'ambito del collezionismo più raffinato a livello internazionale e poi un quadro fondamentale vedi questo è un quadro che se fosse in asta oggi oggi eh che è 20 ottobre 21 ottobre 22 ottobre eh eccetera 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 se fosse in asta oggi ma anche non ti dico Sotibis Cristis no se fosse in asta in qualsiasi casa d'aste americana o inglese quest'opera di Gary Baseman oggi farebbe oltre centomila oltre centocinquantamila dollari oltre centocinquantamila sterline questo è il quadro più famoso al mondo eh se voi vi divertite a prendere eh Google internet e guardate Gary Baseman questo è il quadro più famoso al mondo di quest'artista perché la copertina della sua monografia è la copertina della non è uno dei quadri di Gary Baseman è la copertina della monografia a livello tradotta in venti lingue eh di Gary Baseman eh tradotta in venti lingue di Gary Baseman chi è Gary Baseman? Gary Baseman nel mondo eh del eh non solo della pittura ma nel mondo eh della invenzione fumettistica eh e cinematografica eh è uno dei personaggi più esclusivi eh della storia della cultura mondiale eh contemporanea eh mi metto gli occhiali perché l'opera eh ha mille pubblicazioni eh e naturalmente eh ve ne devo citare qualcuna eh l'opera eh ecco è la copertina del catalogo generale edito da Taschen quindi eh la casa editrice è più famosa nel mondo eh la casa editrice eh dove eh che ha fatto eh le monografie eh che ti posso dire eh di Picasso di tutti quanti i più grandi artisti della storia e quest'opera è la copertina olio sottila di un metro e venti per un metro e ottantacinque bene quest'opera eccolo lì eccolo lì Gary Batesman con una delle sue invenzioni no perché lui ha inventato tutta una serie di personaggi che diventano protagonisti di racconti che poi di racconti editoriali a livello internazionale opera da follia opera da follia opera da follia nel 2012 oh inutile dirvi che oltre ad essere la copertina del catalogo generale di Taschen è stata esposta e pubblicata in tanti musei eh perché è l'opera di Gary Batesman più famosa e più importante nella storia della pittura di questo artista quanto vale quello che vuoi ne esiste uno al mondo ne esiste uno al mondo e ce l'hai tu puoi chiedere oggi lascia perdere quello che sarà Gary Batesman nel futuro nel mercato internazionale di domani ma già oggi te l'ho detto non c'è bisogno di Sotheby's di Christis qualsiasi casa d'aste la più modesta la più sconosciuta che mette sul mercato internazionale quest'opera fa minimo 150.000 sterline prova a chiedere il prezzo 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 per un'opera Franco il Bolin ha almeno altre quattro conferme adesso e sai che comunque mannaggia siamo dei polli lo sai siamo veramente dei polli siamo dei polli perché il mercante romano fa quello che avremmo dovuto fare noi certo se lo prende se lo porta in fiera a Roma lo porta in fiera e lo vende a 25.000 se lo porta in fiera domani no la fiera la fiera di Roma è a fine novembre ma non c'è bisogno della fiera di Bologna di Milano no lo porti dovunque Bergamo Padova eh sì ma il bello è che tra poco c'è proprio Roma capito io ho lo stand a Roma me la porto a Roma la piera di Roma ti prendi sto quadro lo porti in fiera a 25.000 l'hai venduto domani ma vi posso dire che siete oh alla mia età a 80 anni mincavolo perché credete alle favole voi oggi guarda vieni qua avete visto un'opera per la quale impazzirete questo gioiello 1963 collezione Plinio De Martis è scritto dietro collezione Plinio De Martis oh prima mostra storica di Tano Festa la rivoluzione culturale di Tano chi se lo compra oggi e lo mette in asta domani domani in una delle case d'asta italiana italiane importanti questo fa 120.000 euro 130.000 euro oggi 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 e pensa che razza di investimento eccolo lì collezione Plinio De Martis ma poi c'è una logica Plinio De Martis pesce la prima mostra di Tano nella sua galleria nel 1963 c'è il libro che trovate lo pagate e questa è l'opera che Tano regalò a Plinio per ringraziarlo della mostra perché perché naturalmente allora soldi non ce n'erano chiaro? oh ti capita un'opportunità del genere a un prezzo ancora possibile e non te lo compri al volo oh vale mille autentiche quella roba ma quello vale diecimila autentiche ma ve ne rendete conto questa è un'opera di Tano immortale come questa è l'opera sublime il pop la risoluzione pop del 74 con le identificazioni culturali degli anni 60 ma che fai? aspetti? che te lo portino via e speri di poterne comprare un altro sì comprerai la brutta copia con il pezzo di carta che ti piace ma anche questo c'è il pezzo di carta che ti piace perché il pezzo di carta ci deve essere che per legge però questo l'ha fatto lui e tu comprerai la copia tarda magari a mille euro di meno o a mille euro di più perché non è detto perché non è detto poi ti offendi se io ti dico che quello che hai comprato te non lo voglio e tu mi dici ah ma guarda qui c'è la stessa autentica di quello che mi offri tu e chi se ne frega tienitela questo è calligraficamente quindi scientificamente dipinto da lui e questa è la sostanza poi non perché lo dico io perché è un fatto scientifico poi ti trovi di fronte la più clamorosa delle poesie degli anni Ottanta la più incredibile delle poesie in cui Tano racconta se stesso la sua vita specchia io lo chiamo lo specchio dell'anima questo quadro è lo specchio dell'anima in cui Tano racconta se stesso in maniera compiuta anche questo rigorosamente autografo Gabriele te lo sta offrendo al prezzo a cui compri la più volgare imitazione autenticata di Tano festa ma io li comprirei tutti e tre immediatamente ma sono da comprare tutti e tre immediatamente che fate sull'opera di Jerry Zenyuk? buttate via un'opportunità del genere? che fate sull'opera di Gary Besvan? buttate via un'opportunità così clamorosa? dai amici questa è una trasmissione irripetibile vuoi che ci aggiungo le gemme? vuoi che ci aggiungo qualcosa? ma questa non è una trasmissione questa è un'operazione museale storicamente di valore culturale e di valore economico incalcolabile vieni qua vieni qua non mi accontento di presentarti a condizioni particolarissime il Jerry Zenyuk più significativo o il Gary Besman più affascinante in Italia avete visto le opere di Norman Blue solamente a Milano nel 2000 solamente a Milano vent'anni fa un anno dopo la morte dell'artista è il più raro è il più affascinante degli espressionisti astratti americani legato all'evoluzione dell'opera di Pollock fantastico acquarello su carta 14,5 per 64 del 73 di Norman Bloom vai a vedere le quotazioni internazionali vai a vedere i prezzi nel mondo vai a vedere le quotazioni americane di Norman Bloom che viene considerato l'erede carismatico dell'espressionismo astratto americano più avanzato da De Keening in poi da De Keening in poi quanto vale? portalo in mostra eh lo porti in mostra puoi chiedere che ti posso dire 20.000 25.000 non ce n'è un altro non ce n'è un altro e non c'è grande museo al mondo che non abbia in parete un'opera quando parli di espressionismo astratto quando parli di espressionismo americano Norman Bloom è un punto fermo categorico lui nasce a Chicago poi entra nella New York mitica e questo è più che ovvio lui propose e questo è molto interessante nell'ambito dell'espressionismo americano perché si propose con Van der Rohe sugli studi di architettura internazionali è stato quindi non solamente uno straordinario pittore ma anche uno studioso d'architettura all'altezza di Van der Rohe quindi amici oh prova a chiedere il prezzo questa è una gemma è una rarità è un qualcosa che non trovi sul mercato neanche a morire e se lo trovi sul mercato te lo fanno strapagare come il solito come Gabriele vi regala vi ha regalato il Liubolin vi regala l'opera di Jerry Zenyuk prova a chiedere il prezzo di questo gioiello di Norman Bloom e allora ti rendi conto che compri la storia dell'arte universale a una piccola cifra e allora ti rendi conto che compri una gemma introvabile della storia dell'arte internazionale a un prezzo inesistente sono orgoglioso di presentarvi una gemma di Norman Bloom poi torniamo a casa torniamo a casa con un gioiellino vivo del 98 di Piero D'Orazio qualcuno mi dirà è piccolo ma è di qualità enorme quando qualcuno mi dice che è un quadro straordinario è piccolo io mi arrabbio io mi arrabbio perché poi dato che andate a metro quadrato ma l'arte chi ve la vende a metro quadro lo denuncio pubblicamente è un imbruglione l'arte si vende a qualità a significato storico non lo so che cosa c'è dietro è una sorpresa anche per me perché già mi sono esaltato nel momento in cui l'ho visto in parite nel momento in cui l'ho visto in parite mamma mia allora esposto a New York da Martha Jackson c'è ancora l'etichetta di Martha Jackson Gallery New York eccola qua ma la cosa più importante che c'è un disegno un progetto autografo di Norman Bloom del 73 che solamente questo vale più dell'opera che Gabriele vi sta proponendo vedi quando compri le opere da museo da storia dell'arte internazionale e hai lì per fortuna di poterle comprare è confermata lo credo a un prezzo del genere e poi mi dovete dire questo me lo dovete urlare come fate a non aver confermato ancora l'opera più importante più pubblicata nel mondo più significativa di un artista del livello storico inventivo di Gary Baseman come fate a perdere un'opportunità del genere per un'opera gigantesca un metro e venticinque per un metro e ottanta una tela da batticuore una tela letteralmente da batticuore letteralmente epocale letteralmente epocale come fate a perdere un'opera di quel livello poi a parte il fatto che sono ancora arrabbiatissimo perché non ho sentito ancora la conferma dei tre gioielli di Tano e dell'opera strepitosa di Jerry Zenyuk lì sono ancora arrabbiatissimo arrabbiatissimo ma lo vedi il Dorazio fatto da Dorazio e qui rientriamo nel discorso che vi ho fatto per Tano che vi faccio per Schifano che vi faccio per Rotella che vi faccio per Crippa che vi faccio per un'infinità di artisti lo vedi il Dorazio progettuale sul piano culturale sul piano storico io ho avuto la fortuna di conoscere Dorazio e ho avuto la fortuna di vedere il rapporto tra Dorazio e Turcato due geni contrapposti talmente contrapposti che si adoravano perché Turcato adorava Dorazio per la sua capacità proprio di impronta aristocratica nell'arte e Dorazio adorava Turcato per la sua spontaneità per il suo spirito per la sua immediatezza per la sua capacità inventiva e veramente due artisti pazzeschi questo vale più del Dorazio commerciale d'atelier questo è un gioiello autografo sul quale nasce addirittura una serie storica di quadri di Dorazio questo è per Dorazio la cesta di Caravaggio questo è per Dorazio la mitica opera della vocazione di Antonello da Messina tutte opere piccolissime ma immortali questo è il Dorazio immortale questo è il Dorazio immortale e hai la possibilità di acquisirlo ancora ad una cifra piccola 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 quindi le opere da non perdere le opere da non perdere le opere fondamentali le gemme immortali e poi non avete un quadro e poi avete un qualcosa è l'artista meno telegenico vero Carmelo è l'artista meno telegenico che esiste è quello bianco poi incredibile però è uno degli artisti più emozionanti del mondo ed è un italiano a più o meno la mia età forse un anno di meno ed è uno dei pochissimi artisti italiani è uno dei pochissimi artisti italiani che hanno già esposto al MoMA è uno dei pochissimi artisti italiani contrattualmente legato ad una delle tre gallerie che oggi dominano il mercato mondiale Opera Galleri Opera Galleri e se Boetti è arrivato dove è arrivato e Opera Galleri è stata determinante per l'affermazione culturale di visibilità ed economica di Boetti Algardi supererà le quotazioni di Boetti perché Boetti è quantitativamente importante Algardi è il contrario la sua pittura calligrafica che è fondamentale nell'evoluzione e nella storia del segno questa decodificazione la prima decodificazione del 2006 un metro per un metro Alessandro Algardi oltre ad avere lo studio a Londra lo studio a New York ha uno studio a Milano vallo a trovare nello studio milanese e digli maestro è una persona deliziosa è una persona molto preciso molto oculato proprio gran signore quindi ma gli a chiedere maestro ma me lo dà un quadro cento per cento prima di tutto non te lo dà perché lui è come gli americani ti dice vai ad Opera Gallery e compralo giustamente giustamente e Opera Gallery per un quadro così ti chiede 50 mila dollari 50 mila dollari giustamente oltretutto giustamente io ti do la possibilità di comprare la decodificazione numero uno la prima tela cento per cento di Alessandro Algardi al prezzo a cui oggi compri la più volgare delle opere decorative e questo è il boetti di domani anzi oltre anzi oltre anzi oltre e oltretutto non lo dico io lo dice il mondo fosse una mia affermazione ma non lo dico io lo dice letteralmente il mondo lo dice letteralmente il mondo perdilo me lo fai vedere da vicino perché è di una bellezza è di un fascino è di una qualità veramente straordinaria veramente clamorosa è una di quelle opere che letteralmente fanno la storia di un artista decodificazione numero uno 2006 Alessandro Algardi prezzo incredibilmente piccolo prezzo incredibilmente modesto poi 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 c'è un'altra gemma guardate la trasmissione di oggi ve la ricorderete per tutta la vita i contenuti della trasmissione di oggi ve li ricorderete per tutta la vita qui giustamente la nostra regia ha voluto smontare il plexiglass che lo completa per renderlo visibile Noci e Mele Noci e Mele Piero Gilardi l'opera pubblicata in occasione della mostra alla Robert Hild Gallery quindi pubblicata su Piero Gilardi Joshua Patrick Pastorale quindi il Gilardi internazionale non il Gilardi per il sottomercato italiano ma il Gilardi di Castle ma il Gilardi delle grandi mostre internazionali è un 30 per 30 letteralmente un gioiello e il prezzo è letteralmente inesistente o questo voi ve lo dovete mettere in testa qualcuno mi dice ma è piccolo è un 30 per 30 vale più di un 100% legato alla produzione seriale italiana come ti dicevo vogliono tutti i Bloom vogliono tutti il Bolin adesso vogliono tutti Dorazio e Gilardi e lo credo che vogliono tutti Dorazio e Gilardi li regali li regali ma tu regali non le opere minori regali i gioielli regali le opere autografe da mostra internazionale da storia dell'arte e tu le dai al prezzo a cui vendono le decorazioni da mercato italiano così ci alleggerisci al centradino dimmi per i feticisti dell'archivio il Dorazio ha l'archivio l'ultimo allora per i feticisti del pezzo di carta per i feticisti del prezzo di carta che odio ve lo dico francamente perché quello che conta è la calligrafia è l'unica prova scientifica e non c'è in Italia di archivi scientifici c'è Burri poi c'è la nebbia c'è Morandi di archivi scientifici poi c'è la nebbia cavocce vi piace essere meglio che sto zitto perché poi se vi dico tutte le verità non fare polemica c'è tutto e via però la verità la dovete sapere questo c'è il pezzo di carta che vi piace da morire è l'ultimo archivio d'Orazio quello che oggi è incensato quello che vi piace da morire ma non conta quello che conta è la calligrafia pittorica però c'è anche il pezzo di carta che vi piace da morire qui vengo fuori al naturale vengo fuori come anesco è come quando ti viene fuori l'anima no? è come quando ti viene fuori l'anima che dici ma avete proprio proprio vi piace essere presi per i fondelli vi diverte da morire opera strepitosa l'Algardi è da batticuore un Gilardi come quello sul mercato delle mostre italiane non lo trovate neanche a morire di quella qualità di quel livello la vera interpretazione del mondo naturale che viene ripetuto questo è un concetto che nasce anche questo negli anni settanta nasce a Torino come derivazione dell'arte povera e non a caso Gilardi ha quella matrice storica ma sono le opere internazionali sono le opere fatte da lui non di atelier guarda che gioiello gioiello il dorazio inimmaginabile straordinaria clamorosa la decodificazione numero uno di Alessandro Algardi che se la trovi a opera gallery te la fanno pagare una cifra pazzesca giustamente amici queste sono le opere che trovi dai grandi galleristi e certamente questo è il Gilardi o quello è il dorazio che trovi da Tornabuoni che trovi da Mazzoleni non è il Gilardi che trovi all'asta Pernacchiotti capisci ti ci vuole la testa e il dorazio non ne parliamo e l'Algardi nelle aste Pernacchiotti non sanno nemmeno che esiste da follia da follia tre opere pazzesche ma adesso vi aggiungo la super gemma vi aggiungo la regina vi aggiungo il di più l'hanno capita al Boburgo quindi non è che l'hanno capita al museo l'hanno capita dal Boburg all'hamburger Banoff di Berlino al museo degli uffizi tanto per poi musei Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Cannes Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Monte Carlo di Nizza Vienna ma poi Roma Roma Napoli Torino dire di Dio cioè se tu fai il se tu compri solamente i libri dedicati a Franca Pisani li devi comprare almeno 40 o alcuni sono introvabili il problema qual è che io fino a un mese fa potevo farvi vedere 6, 7, 8 quadri di Franca Pisani oggi se riesco a farvene vedere uno o due il secondo deve essere piccolino perché due cento cento non li trovo e su Franca Pisani che è la più grande artista vivente oggi al mondo tra i dieci più grandi in assoluto leggete la sua storia oh l'hanno invitata agli uffizi a fare una conferenza sullo sviluppo dell'arte dagli anni 70 ai giorni nostri partendo dalla poesia visiva e arrivando poi alle forme concettuali più avanzate guarda che razza di quadro queste luci costiere questo strepitoso ciclo di luci costiere che sono il riassunto dell'analisi logica dello sviluppo dell'opera di Franca Pisani dalla poesia visiva iniziale ai fondi oro al recupero del segno primordiale alla costruzione architettonica sottila delle caselle della ragione kantiana legate alla grande esperienza al museo Marino Marini e portate in biennale per tre volte a Venezia quindi una di quelle opere da batticuore immortali pazzesche di Franca Pisani guardate io l'ho messa vicina ad Algardi a Dorazio a Gary Baseman a Norman Bloom cioè non sono un artista di quel livello ma nella contemporaneità va addirittura oltre attenzione il fenomeno economico su Franca Pisani come su Mambor cominceranno tra breve e allora come ve lo dico su Mambor ve lo dico per Franca solo i più ricchi potranno comprare avranno abbastanza denaro per comprare le opere di Franca Pisani opera emozionante un metro per un metro tra le più importanti della storia dell'arte contemporanea in assoluto ma non a livello italiano a livello mondiale è l'ultima opportunità per poter acquisire un'opera di questa importanza e bellezza a un prezzo ancora umano a un prezzo ancora umano non è bella è fantastica è fantastica è letteralmente fantastica amici momenti trasmissione appassionante e momenti straordinari trasmissione letteralmente appassionante e momenti straordinari con opere che vi portano in una dimensione storica in una dimensione culturale letteralmente assoluta letteralmente straordinaria ora con l'aiuto della nostra regia voglio farvi rivedere tutte le opere a vostra disposizione ci fermiamo lì ci fermiamo lì e rileggiamo con l'aiuto della nostra regia tutte le straordinarie opere che oggi ho la fortuna di potervi proporre che oggi ho la gioia infinita la fortuna sfacciata di potervi proporre tocca a voi rileggiamole con gioia di potervi di potervi Grazie a tutti. 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 Tu speri di trovare un'opera di Algardi a quelle condizioni di prezzo? O il più clamoroso dei quadri di Gary Besman pubblicato come copertina del catalogo generale da Taschen? Non parlo della Dadamaino, non parlo delle tre opere di festa e ci tengo a farvi vedere una delle opere di Renato Mambo più affascinanti e più incredibili che abbiate mai visto. Ogni fa di vedere anche al pulizio di Tano Festa? Subito legata, subito, legata alla mitica mostra al museo degli strumenti musicali. e Mambo lo paghi e mambo lo paghi ancora a un prezzo umano, ma diventerà il più disumano di tutti. E poi ho avuto la gioia di farvi vedere non tre opere di Tano Festa, tre gioielli di un genio, del quale il 97% delle opere in circolazione sono ad essere generosi di Atelier. Ad essere generosi di Atelier, anni Ottanta, poetica, pazzesca, questa specchiarsi nella memoria di se stessi, questa memoria dell'anima, da più affascinante delle poesie pittoriche di Tano Festa degli anni Ottanta. L'opera geniale del 74 che rappresenta la traduzione popular del concettuale italiano. La rinuncia al paradiso terrestre, quindi la citazione michelangiolesca, ma riportata non in maniera decorativa, popular, riportata e raccontata in maniera concettuale. E' uno dei pochissimi quadri di Tano pubblicati su un libro ufficiale di Tano Festa, di Achille Bonito Liva. Quindi, capitemi, le opere di un altro livello, le opere di un'altra storia, le opere indiscutibili, indiscutibili. Qui non c'è bisogno dell'archivio A, dell'archivio B, dell'archivio C, perché sono unanimi, sono le opere indiscutibili. E poi, qui non ne parliamo proprio, dalla prima mostra storica di Tano Festa, collezione Plinio de Martis, una delle opere concettuali storiche del 1963 di Tano. Opera Immortale, autentica Plinio de Martis, vi rendete conto. Opera Immortale, Immortale. Poi, naturalmente, qui c'è per la prima volta la sostituzione della carta velina sul monocromo con la partecipazione linea. Quindi, è la vocazione a quelle strutture dei mobili decostruiti che rappresentano il momento più poetico della creatività di Tano. Compra quelle opere. E poi, sempre nel 1963, sempre nella mostra di Plinio de Martis, nascono i primi obelischi. E i primi obelischi. Quanto li fanno? 150. Ma non hanno prezzo. Ma non hanno prezzo. Sono le opere da Galleria Nazionale d'Arte Moderna, se sei a Roma. Sono le opere da Museo del Novecento, se sei a Milano. Sono le opere da MoMA, se sei a New York. Sono le opere da National Gallery, se sei a Londra. Questa è la verità. Tutto il resto sono racconti immaginari. Il mio professore di Lettino la chiamava Aria Fritta. Discorsi da Aria Fritta. Una serie di opere immortali. Una serie di opere pazzesche. Una serie di opere fantastiche. Amici, io sono entusiasta della trasmissione di oggi. Perché a tre gioielli del genere, legati agli anni Sessanta, agli anni Settanta, agli anni Ottanta di Tano, si aggiunge la proiezione milanese dell'opera di D'Adamaino. Si aggiunge la mitica proiezione milanese dell'opera di D'Adamaino. Amici, da restare senza fiato. Da restare senza fiato. Le opere... Richiamate, 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 perché il centralino è impegnatissimo e magari non sono riusciti a rispondervi. Quindi richiamate, se non avete avuto risposta immediata. Ma avere delle opportunità di questo livello in una trasmissione pazzesca come quella di oggi è veramente un qualcosa di anomalo. Anche nelle nostre trasmissioni. Ve lo posso dire, dal punto di vista storico, dal punto di vista concettuale, è una delle trasmissioni più importanti della mia vita, dai tempi in cui ebbi la fortuna di presentarvi i manzoni, i tagli di Fontana, i tempi delle presentazioni del gioiellino di Tombley, i tempi delle presentazioni di Chagall, delle grandi opere internazionali. Da allora è una delle trasmissioni più emozionanti, di contenuto più significativo, di contenuto storico e di contenuto culturale più significativo. Il Mambo dal Museo degli Strumenti Musicali, le opere più clamorose di Tano, il Gary Besman più importante che esista al mondo, l'opera di Gilardi, l'opera di Dorazio, due opere di dimensioni contenute ma gemme sul piano storico, sul piano culturale. L'opera più affascinante di Alessandro Algardi e poi quel gioiello di Franca Pisani. Ve lo posso dire, il primo quadro che dovreste comprare ad occhi chiusi, dimmi, stavo parlando proprio di quello, stavo parlando proprio di quello incidentalmente. Il primo quadro che dovreste comprare ad occhi chiusi è l'opera di Franca Pisani. Non comprare Franca Pisani oggi è come non aver comprato Tombly quando ve lo davo a 5 milioni delle vecchie lire. Non è come non aver comprato Boetti quando ti davo la carta geografica che oggi costa 2 milioni di euro, 4 miliardi delle vecchie lire e te la davo a 20 milioni delle vecchie lire. E mi prendevate, mi insultavate, perché vi dicevo che sarebbe arrivata a costare 300 milioni delle vecchie lire e i benpensanti di allora mi dicevano non puoi ingannare il tuo pubblico in questa maniera. Nessuno mi ha chiesto scusa. Ma addirittura quando a Roma vi davo la possibilità di comprare i gioiellini di Tombly a 5 milioni delle vecchie lire, quelle che oggi vai da Gagosian costano 10 milioni di dollari. La dimensione di Franca Pisani e la dimensione di quell'opera straordinaria riassuntiva di tutte le esperienze culturali vissute da Franca Pisani, dalla poesia visiva legata alla mostra al Boburg fino alle esperienze legate alla mostra a Roma, alla mostra agli Uffizi, cioè proprio tutto il percorso culturale di Franca Pisani rappresentato in quell'opera fantastica, rappresentato in quell'opera assolutamente superiore. Questa è una delle opere più belle, questa è una delle opere più significative e avete ancora la possibilità di mettere in collezione un'opera di questo livello a un prezzo piccolissimo, a un prezzo irreale che non potrete mai più frequentare nelle trasmissioni future. Ve lo dico già da adesso, un prezzo del genere per un'opera di Franca Pisani di questo livello non lo potrete più frequentare, è fondamentale investire su Franca Pisani oggi, così come era fondamentale all'inizio del 2000, 20 anni fa, investire su Boetti, così come 20 anni fa vi dicevo che dovevate comprare Boetti in assoluto e la risposta era, ma sono tessuti, non li ha fatti lui, sono fatti da artigiani afghani, avete visto cosa è successo? Oggi vi dico è non necessario, è indispensabile, è indispensabile come operazione culturale e operazione economica acquisire Franca Pisani oggi, è indispensabile. è indispensabile, è indispensabile, opera pazzesca. Amici precipitatevi, avete a disposizione una serie di opere fenomenali, avete letteralmente a disposizione una serie di opere fenomenali e ve lo dico francamente, l'unica cosa difficile oggi è dire quale opera acquisire, perché veramente le dovreste acquisire tutte, sarebbe da comprare la trasmissione in blocco, sarebbe da acquisire la trasmissione in blocco. mi iper raccomando, la Pisani, il Gilardi, l'Alessandro Algardi, il Dorazio, il Gary Besman, le tre opere meravigliose di Tano Festa, l'opera incredibile di Dadamaino, una delle opere immortali legate al Museo degli strumenti musicali di Renato Mambor. Allora Franco, la Pisani è confermatissima, realmente magica, complimenti a chi è arrivato prima, perché... Quindi siccome ci sono tre prenotazioni, tre, e siccome avevamo quei tre, quattro quadri della Pisani da parte, vado giù a prenderli in modo da dare un'alternativa ai nostri amici? Guarda, c'era un cento-cento, non so se la nostra regia... Ma li vado a prendere fisicamente? Va bene, va bene, va bene, va bene, fallo, 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 perché sono opportunità irripetibili. Sono opportunità irripetibili. Sono letteralmente opportunità irripetibili. Quel Mambor è da follia. E poi, e poi, non vi giustificherò mai il fatto che state perdendo i tre tano-festa più significativi che abbia mai avuto la gioia di proporvi. Dalla collezione di Plinio de Martis, 63, 1974, la citazione micrangiolisca, l'iniziazione poppo, l'opera poetica degli anni Ottanta più affascinante che abbiate mai visto. Più affascinante che abbiate mai visto. Tre opere di Tano letteralmente immortali. Allora, che fate? Che fate? Il Gary Belsmann è da prendere immediatamente come il Gilardi è il delizioso dipinto di Dorazio e il raffinatissimo dipinto di Dorazio. Ora, ve l'ho detto, questa è una trasmissione magica. Questa è una trasmissione irripetibile. Questa è una trasmissione pazzesca. Per la qualità dei contenuti e per i prezzi clamorosi che vi stiamo concedendo e proponendo. Quindi non approfittarne è il più clamoroso dei delitti che potete compiere verso voi stessi. È il più clamoroso dei delitti che potete compiere verso la vostra collezione, verso voi stessi. Ma alle straordinarie gemme che vi ho fatto vedere nel corso di questa trasmissione, sto per aggiungerne una immortale. Avete visto quello che succede oggi sulle grandi operazioni di divulgazione mondiale? Guardate quello che sta succedendo su Jeff Koons, guardate quello che sta succedendo su Bansky, guardate quello che sta succedendo su tutta una serie di artisti che hanno conquistato un mercato internazionale. Oggi si parla di natura, oggi si parla di ecologia, oggi si parla di rapporto tra la conservazione della vita umana e la conservazione dell'ambiente nella sua realtà naturale. e c'è un artista non importante, pazzesco, e c'è un artista pazzesco che si nasconde dietro uno pseudonimo, come accade oggi per diversi artisti, Bansky è l'esempio più clamoroso, ma il fatto che Alan B si nasconda dietro questo pseudonimo nasce dal fatto che questo artista di cui oggi non conosciamo il nome si identifica proprio nella persona di uno dei più grandi uomini di cultura, è uno dei più grandi industriali, quindi uno degli uomini più ricchi dal punto di vista materiale e dal punto di vista della capacità costruttiva, perché ha costruito le aziende, alcune delle aziende più ricche della Germania della contemporaneità. però era un uomo che dietro la sua capacità imprenditoriale aveva un senso della realtà e dello sviluppo della realtà sociale clamoroso. Era un innamorato del pianeta, un innamorato della conservazione dei valori umani assoluti, in perfetta sintonia con la conservazione dell'ambiente naturale del pianeta. E la percezione di tutto questo, e la percezione di tutto questo, Alan B l'ha avuta addirittura negli anni Sessanta. Negli anni Settanta l'ha tradotta in una serie di opere immortali, in una serie di opere dove il suo vero nome viene nascosto da questo pseudonimo Alan B, che sono diventate immortali. Perché sono diventate immortali? Perché sono l'invocazione alla conservazione del mondo naturale, prendendo esempio dal mondo delle api. Sapete c'è l'antica interpretazione di Einstein che diceva appunto che quando non vedremo più le api il mondo potrà finire nel giro di tre anni. Nel giro di tre anni. Perché? Perché le api sono il simbolo dell'impollinazione, quindi sono il simbolo della conservazione della natura. Bene. Alan B in vita non ha mai voluto che le sue opere entrassero in commercio. Oggi c'è una fondazione Alan B che ha cominciato la sua attività dopo la scomparsa dell'artista. E le opere di Alan B sono già catalogate tutte. Sono già tutte catalogate dalla fondazione Alan B e non se ne può aggiungere nemmeno una. Quindi non è un fenomeno commerciale che si svilupperà sulla quantità delle opere, ma solamente sulla definizione del valore internazionale delle opere già eseguite e già catalogate. Io come volevo che ciascuno di voi avesse in collezione un'opera di Boitti, come ho combattuto come non mai perché ciascuno di voi negli anni Ottanta avesse in collezione un taglio di Fontana piuttosto che uno dei grandi quadri che adoro del Novecento italiano? Perché dal punto di vista economico, dal punto di vista speculativo non c'era paragone? Come ho fatto l'impossibile perché compraste le opere più belle di Bonalumi quando ve le potevo offrire a 5.000 euro? Come solo 4 anni fa, 5 anni fa, con Gabriele abbiamo fatto l'impossibile perché voi compraste le opere di Sgro quando costavano 2.000-3.000 euro e dopo 5 anni ve le ritrovate a 60.000, 70.000, 80.000. Come un'infinità di volte vi ho chiesto di investire i vostri risparmi sugli artisti di grande valore culturale che inevitabilmente sarebbero diventati fenomeni di mercato. Comprate un'opera di Alan B. Comprate un'opera di Alan B. Io vi faccio vedere una piccola collezione. Sono cinque gioielli immortali di Alan B. Sono cinque opere immortali di Alan B. E proprio perché voglio, fortissimamente voglio, perché questa è un'azienda che Gabriele porterà avanti per i prossimi vent'anni e voi dovete essere gli amici di Gabriele quando io non ci sarò più. Mi raccomando, voglio che le opere di Alan B. come voglio che le opere di Jerry Zenyuk entrino nella vostra collezione. Quando i prezzi sono ancora umani, quando i prezzi sono ancora umani. E per questo oggi vi offro cinque opere di Alan B. di dimensioni diverse a prezzi clamorosi. Ma al prezzo clamoroso aggiungo un'opportunità storica. Aggiungo letteralmente un'opportunità storica. Voi oggi non solo dovete, non potete, ricordate, dovete comprare un'opera di Alan B., ma oggi vi do la possibilità di prendere cinque opere storiche, cinque opere immortali di Alan B., concedendovi il 50% dell'importo che pagate, vi concediamo un buono acquisto che potete spendere quando volete di arte e investimenti. Quindi un'opera per la quale vi chiedo ipoteticamente 10.000 euro, su 10.000 euro avete un buono acquisto di 5.000 euro. Avete un buono acquisto che potete spendere su altri artisti nella trasmissione di oggi o potete spendere quando vorrete ad arte e investimenti. Quindi i prezzi che vi darò oggi di Alan B., eccezionali, straordinari, sono accompagnati da un buono acquisto del 50%. Da un buono acquisto che potrete usare quando vorrete del 50%. Seguitemi, è il vostro momento magico, cominciate a telefonare perché sono opere imperdibili. Alan B., 1983, pubblicato nel catalogo di Alan B., a pagina di 140. Opera 47 per 30, che oggi chiunque vi chiede più di 10.000 euro, non solo vi chiederà il centralino una cifra ridicola, ma su questa cifra ridicola vi viene concesso un buono acquisto del 50% della cifra. Del 50% della cifra. Precipitatevi, è il vostro momento magico. Poi, numero 16, un'opera storica, sono le mitiche opere della Genesis, sono le mitiche opere degli anni 70, che oggi non hanno prezzo, che oggi letteralmente non hanno prezzo. Non hai voluto comprare il boetti di questa dimensione quando te lo davo a 300.000 lire e te lo compri oggi a 80.000 euro. Alan B. Fa questa fine. Genesis, 1979, 21 per 21, pubblicato a pagina 106 del catalogo di Alan B., opera da non perdere. Due gioielli, due gioielli, uno più importante dell'altro, uno più significativo dell'opera di Alan B. Poi, il ciclo più ambito a livello mondiale, il ciclo più ambito a livello mondiale, free woman, quindi per la libertà della donna, 70 per 50, queste sono le opere più ambite, queste sono le opere più ricercate, queste sono le opere immortali di Alan B. A 50 per 70, quindi un'opera importante, ad un prezzo inimmaginabile, ad un prezzo letteralmente pazzesco, ad un prezzo letteralmente inimmaginabile, inimmaginabile, con il 50 per cento di buon acquisto. Tra l'altro opera da batticuore, tra l'altro letteralmente opera da batticuore. Ciclo free woman, opera pazzesca. Poi, poi, questo è da Galleria Nazionale d'arte moderna. Questo è da MoMA, Anima Mundi, Anima Mundi, 1978, 1978, le opere storiche dedicate proprio al mondo delle api. Un metro per 70, pubblicato strepitoso, amici, questa è un'opportunità epocale. Questa è letteralmente un'opportunità epocale. Alan B., Anima Mundi, 100 per 70, 1978. da batticuore. Anche questo, e non dovrei farlo nella maniera più assoluta, con il 50 per cento di buono acquisto. Con il 50 per cento di buono acquisto. E infine, guardate che meraviglia, ciclo free woman, 80 per 70, 80 per 70, da urlo, da urlo. Sono i cicli più ambiti dai musei, sono le opere più ambite dai grandi mercanti internazionali, sono le opere che quando vai a Castle, oggi hanno e trattano le più grandi gallerie del mondo. E con enorme orgoglio ed enorme soddisfazione, sono le opere che oggi ho la gioia di offrire al nostro pubblico a prezzi incredibilmente e per di più. E per di più con il 50 per cento di buono acquisto. Amici, se avete delle domande, fatemele. Ma perdere le opportunità pazzesche che vi stiamo offrendo oggi, in questa terza, trasmissione, è disumano. È letteralmente disumano. È letteralmente immorale. È letteralmente fondamentale. Amici, non esitate un secondo. Amici, non esitate un istante. Scegliete la vostra opera. Scegliete l'opera di Alambi da aggiungere alla vostra collezione. Non avete comprato i boetti quando li dovevate comprare? Non avete comprato i Bansky, i Fontana, i grandi quadri internazionali quando li dovevate comprare a un piccolo prezzo. Questa è l'opportunità storica. Questa è l'opportunità irripetibile oggi. Devi saperne approfittare immediatamente. Già i prezzi sono i più piccoli in assoluto sul mercato internazionale. Poi vi do anche il 50% di buono acquisto. Vi do anche il 50% di buono acquisto che potete spendere quando volete. Amici, tocca a voi. Non aspettate che vi dica, vi ricordate quando in quella trasmissione storica ebbi la possibilità di presentarvi le opere di Alambi a questi prezzi e con il 50% di buono acquisto? Non aspettate che debba consigliarvi le opere di Alambi a prezzi che saranno il doppio, il triplo di quelli che vi sto concedendo oggi, ricordandovi che in una trasmissione storica vi avevo dato la possibilità di acquisire cinque opere immortali di Alambi a prezzi assurdi e per di più con il 50% di buono acquisto. e per di più con il 50% di buono acquisto. Questa è un'opportunità che ricorderete inevitabilmente per tutta la vita. Questa è un'opportunità che inevitabilmente ricorderete per tutta la vita. Mi raccomando, non esitate un istante. Mi iper raccomando, non esitate un momento. No, non vi posso dire quella che preferisco io. Sono cinque opere di grande personalità, di grande significato. Sono cinque opere clamorosamente vincenti. Già a prezzi immorali, già a prezzi che nessuno vi concederà mai e sui quali vi diamo l'opportunità di un 50% di buono acquisto. Approfittate di quello che sta accadendo in questa trasmissione. Approfittate di quanto sta accadendo in questa trasmissione. Perché opportunità del genere dimenticatele per tutta la vita. Perché opportunità del genere dimenticatele per tutta la vita. E poi ci aggiungo una gemma. E poi ci aggiungo un qualcosa di sensazionale. La 17 non c'è più. Quale, scusami? ha il Free Woman, meraviglioso. Veramente complimenti. Letteralmente un'opera straordinaria. Non si stacca. Vuole restare alla parete perché non è contenta del prezzo realizzato. E alle cinque opere di Alan B. che vi sto facendo vedere, aggiungo, sempre con il 50% di buono acquisto, l'opera immortale, più viva, più affascinante, 60x60 di Jerry Zenyuk. Ne ho una. vai adesso, tra breve, tra pochi mesi, c'è Bologna e poi c'è Arte Fiera Milano. Vai a Bologna a chiedere un'opera di Jerry Zenyuk così, al doppio del prezzo che vi sta chiedendo Gabriele, non ve la danno. Oggi, al doppio del prezzo che vi sta chiedendo Gabriele, non ve la danno. E oggi un'opera del genere di Jerry Zenyuk ti sto dando la possibilità di prenderla al prezzo più conveniente che esiste e per di più hai un buono acquisto del 50% della somma che investi. E per di più hai un buono acquisto del 50% della somma che stai investendo. Amici, queste sono opportunità che ricorderete per tutta la vita. C'è il numero 19, Free Woman, da sogno. C'è il numero 18 che non ve lo dico nemmeno. C'è il numero 18 che è un'opera del 78 che finisce in uno dei grandi musei del mondo. Guarda, te lo dico adesso, te lo dico adesso, che hai la possibilità di prendere quest'opera con il 50% di buon acquisto, quest'opera te la richiederanno per le mostre e te la richiederanno per acquistarla i più grandi musei internazionali. I più grandi musei internazionali. Compri un'opera immortale. Per non parlare dei due gioiellini al numero 15 e al numero 16 che hai la possibilità di acquisire a cifre immorali. A tutto questo ho aggiunto un'opera fantastica su tela, 60x60, di Jerry Zenyuk. Amici, approfittate di questo momento magico. Amici, letteralmente approfittate di questo momento magico. questo momento magico. Approfittate di questo momento irripetibile. Approfittate di queste opportunità che non si potranno riproporre mai più. Poi mi direte, ti ricordi quando mi hai dato la possibilità di acquisire quelle opere a quei prezzi, quelle opere a quelle cifre e per di più con il 50% di buon acquisto? E per di più con il 50% di buon acquisto? Intervenite adesso. Intervenite ora. Quest'anima mundi del 78 è letteralmente incredibile. Ma sono tutte opere immortali. Ma sono tutte opere di fronte alle quali non puoi esitare un secondo. non puoi esitare un attimo. non dovete essere indecisi. Non dovete lasciarvi sfuggire le opere fondamentali. non dovete lasciarvi sfuggire le opere che restano nella storia. E la trasmissione di oggi la ricorderete per tutta la vita. la trasmissione di oggi la ricorderete per sempre, per dei contenuti incredibili e delle opportunità d'acquisto irripetibili. Allora, cosa fate? Allora, dai, 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 le opere di Alan B. Quindi, a questo prezzo e con un buon acquisto del 50%, quella gemma di Gerry Zenyuk alle condizioni di oggi, Poi, lo so che cosa accadrà. Gabriele, mi sembra che Bologna sia a febbraio, se non sbaglio, no? Poi, quando andrete a visitare la fiera di Bologna e troverete Gerry Zenyuk e chiederete i prezzi e troverete Alan B. e chiederete i prezzi, vi ricorderete di quello che vi sto dicendo oggi. Vi ricorderete di quello che vi sto offrendo oggi. Opere di questa qualità, opere di questo livello, a questi prezzi e con il 50% di buon acquisto. a questi prezzi immorali, ma l'hai chiesto il prezzo del 15 e del 16? Poi, quando li vedrai ai prezzi di Boetti, allora ti ricorderai che con un piccolissimo investimento potevi comprare le opere più rappresentative di un artista superiore. Questo è il momento giusto per compiere gli investimenti vincenti. Le opere più belle di Alan B. è una gemma di Gerry Zenyuk. Amici, Gabriele ha fatto una follia e chiedo a Raffaela di seguirmi perché quello che state per vedere non lo vedrete mai più e quello che vedrete di quest'artista sarà a prezzi completamente diversi. Gabriele ha preso le tre opere che io avevo messo da parte per i miei figli di Franca Pisani e questa non gliela perdono e questa non gliela perdono. Tre opere non importanti, incredibili e ve l'ho detto, oggi la Pisani entra tra i dieci artisti storicamente e culturalmente più importanti del pianeta Terra. E io avevo messo da parte tre opere fondamentali, questo spezzare le catene del convenzionale, 100% creare ponti di cultura tra l'oggi e il domani, proprio la denominazione della cultura universale. Poi, energia fluida del pianeta Terra, a fondo oro con la rappresentazione della fauna marina. E poi la gemma finale, questo femminile plurale, questa conchiglia della cultura che nasce, addirittura questa non è pittura, è tela, è applicazione di fondo oro, che nasce sulla cultura tradizionale, sul mitico monocromo burriano. Quindi l'evoluzione della cultura da burri alla contemporaneità, l'apertura della mente al femminile, questo femminile plurale, tre opere che finiscono nei più grandi musei del mondo, tre opere che è indispensabile comprare oggi, tre opere che domani non si potranno comprare. Tocca a voi, tocca a voi tre opportunità indimenticabili, tre opportunità epocali, tocca a voi un solo consiglio, siate velocissimi, un solo consiglio, siate velocissimi, tre opere insostituibili sul piano storico, sul piano culturale, sul piano epocale. Tre opere insostituibili. Non chiedetemi quale prendere, perché sono tre emozioni culturali che andrebbero comprate immediatamente tutte e tre, che andrebbero acquisite immediatamente tutte e tre. velocissimi, velocissimi, velocissimi. Mi chiedono che ci propensava lei per l'opera. VELOCISSIMI. Che ci propensava per l'opera. Così vediamo cosa riusciamo a fare. velocissimi, tre gioielli, tre gemme immortali da bloccare immediatamente. Tre gemme immortali da bloccare immediatamente. Poi mi direte cosa ho perduto. Poi mi direte quale strepitosa opportunità mi sono lasciato sfuggire. vedete, queste sono le opere che voglio vengano comprate da coloro che non hanno tanto denaro. Sono le opere che consiglio a coloro che possono investire delle cifre ancora modeste. Magari usate la finanziaria e pagate ve le errate. Magari usate la finanziaria e pagate ve le errate. Il numero quattro? LA 21. Ah, LA 21. LA 21 non c'è più e faccio i più vivi complimenti a chi l'ha bloccata perché è un'opera fantastica. è un'opera strepitosa. Ma non potete perdere né la numero 22 quello schermo a fondo oro sulla natura tanto meno la numero 23 letteralmente museale letteralmente epocale mi iper raccomando vi vorrei guardare in faccia vorrei consigliare gli amici più cari questo femminile plurale questa proiezione dell'immagine della donna nella fruizione naturale è qualcosa di magico è qualcosa di magico non perdete questi gioielli non perdete queste gemme non perdete queste opere immortali amici siamo proprio in chiusura di una trasmissione epocale con dei contenuti letteralmente epocali quindi siate immediati perché poi queste opere il Gilardi l'Algardi il Dorazio non vi parlo delle opere della Pisani le tre opere di Tano Festa il Mambo la Dada Maino le opere di Alambì l'opera di Gerry Zenyuk sono tutte opere che ritroverete dai grandi mercanti dai grandi mercanti nelle grandi mostre a prezzi totalmente diversi a prezzi totalmente diversi e le opportunità magiche e letteralmente le opportunità magiche che vi sto proponendo in questa trasmissione le ricorderete tutta la vita avete otto minuti avete otto minuti per prendere delle decisioni determinanti sul valore storico della vostra collezione sul valore culturale della vostra collezione sul valore economico della vostra collezione avete otto minuti fondamentali usateli bene usateli bene io vi sto riportando sulle opere alcune sono prenotate alcune sono ancora a vostra disposizione ma le opere che non potrete dimenticare di aver visto per tutta la vita e sulle quali oggi vi sto dando delle opportunità economiche assolutamente totalmente irripetibili decidete adesso pochi minuti fondamentali pochi minuti straordinari pochi minuti assolutamente vincenti attraverso i quali avete la possibilità di bloccare le opere che non avrete mai più la gioia di poter rileggere a prezzi del genere ma vi rendete conto di quello dell'opportunità io questa ve la voglio mostrare perché è clamorosa perché è clamorosa se oggi hai l'intelligenza di comprare quest'opera di Gerry Zenyuk se oggi non solo compri un'opera che vai nelle più grandi gallerie del mondo e se la trovi la devi pagare il doppio di quello che ti sta chiedendo Gabriele in questo momento ma se la compri oggi adesso in questa trasmissione con il buono acquisto del 50% con il prezzo che paghi il Gerry Zenyuk e il buono acquisto che hai puoi avere a zero puoi usare il buono acquisto per comprare questo gioiello di Tano ma amici al prezzo assurdo a cui compri quest'opera strepitosa di Gerry Zenyuk ti viene praticamente gratis quest'opera di Tano ma ti rendi conto di quello che hai di fronte agli occhi in questo momento e della possibilità magica di acquisizione che hai in questo momento ma ti sto dicendo dell'opera di Tano ma il buono acquisto lo puoi usare per l'Algardi lo puoi usare per il Dorazio lo puoi usare per la Pisani lo puoi usare per il Gilardi quindi ti rendi conto della possibilità magica che hai in questo momento e sugli Alambi la stessa cosa ma se non approfitti di questa opportunità per mettere in collezione un artista vincente a livello mondiale allora ti devo dire una sola cosa i veri grandi acquisti culturali e speculativi non li sai fare non li sai fare non sai rinunciando alla possibilità d'acquisizione dell'opera che ho in mano con un buono acquisto del 50% stai perdendo una di quelle opportunità epocali epocali letteralmente epocali non perdere opportunità del genere non perdere un momento magico come quello che stiamo vivendo e mancano cinque minuti quindi o adesso o mai più perché opportunità del genere sono letteralmente irripetibili perché opportunità del genere sono assolutamente e totalmente irripetibili e totalmente irripetibili mi iperraccomando mi iperraccomando mi iperraccomando non esitate perché le opportunità magiche che vi sto proponendo in questa trasmissione sono irripetibili assolutamente e totalmente irripetibili amici io sono entusiasta di questa trasmissione è una trasmissione magica inutile dirvi che l'opera che ho in mano domani ma questo pomeriggio non ci sarà più ma questo pomeriggio non ci sarà più perché il primo mercante che ci segue sui media perché poi la trasmissione va dove va via satellite eccetera 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 il primo mercante che vede questa proposta ma vola vola viene in macchina di corsa per portarsi via al quadro perché non ci crede perché non ci crede dai le grandi opportunità le dovete bloccare nel momento in cui le avete concretamente non a parole nel momento in cui concretamente l'avete davanti agli occhi mi iper raccomando opportunità magiche mi iper raccomando opportunità storiche mi iper raccomando non perdete delle opportunità fondamentali è follia perdere le opportunità storiche fondamentali poi guarda tu fai rivedere il Dorazio fai rivedere l'Algardi fai rivedere il Gilardi ma quello che vi ricorderete per tutta la vita sono uno due e tre perché con pochi soldi ti metti in casa un capitale storico un capitale culturale e un capitale economico che se te ne dico se te lo quantifico oggi mi dici è impossibile tu sei pazzo oggi mi dici è impossibile tu sei pazzo ma quando lo verificherai amici i grandi movimenti internazionali sono già stabiliti oggi e non approfittarne è il più grosso delitto che un collezionista possa compiere oggi le due opere di Franca Pisani che sono le mie spalle le ricorderete per tutta la vita la gemma di Jerry Zenyuk che vi sto proponendo a un prezzo irreale ve la ricorderete per sempre ve la ricorderete per sempre e purtroppo devo chiudere e purtroppo devo salutarvi ma ve lo dico con l'entusiasmo più totale quando ho la fortuna di incontrare una serie di opere di questo livello la trasmissione la continuerei per tutto il giorno perché sono le opere che mi esaltano sono le opere che so che sono la storia sono le opere che restano nella storia un grazie a donna Raffaela un grazie a Carmelo grazie a Valentina e a Gabriele che sono impegnatissimi al centralino grazie a tutti voi per la vostra attenzione con tutto il cuore alla prossima grazie Grazie a tutti. Questo libro contiene tutta la mia esperienza di venditore, tutti i personaggi che ho conosciuto nel mondo dell'arte.